Musica Dopo la convincente vittoria per 3-0 nel difficile campo del Santa Maria delle Mole, il Real Pomezia cerca quella continuità di risultati che fino ad ora le è mancata, ospitando in casa il Corneto Tarquinia. La prima azione è di Peri, che dalla sinistra mette un cross pericoloso in area, ma la difesa respinge. Il Real Pomezia è ancora pericoloso sulla fascia sinistra, di nuovo con un cross di Peri, ma ancora una volta i difensori fanno buona guardia. All'undicesimo Petroccia serve Cardella sul versante sinistro, il numero 11 di petto salta il diretto avversario, entra in area ed esterno colpisce il palo. Ancora Real, Aglitti crosta dalla tre quarti ma a Roversi manca l'appuntamento con il pallone. Il primo tempo è tutto di marca rosso-blu, Gelonese serve Roversi in profondità ma il pallone è leggermente lungo e il portiere può rinviare. Punizione di Petroccia, dalla distanza non inquadra la porta. In pieno recupero, angolo di Aglitti, si accende una mischia in area che viene risolta da Roversi che di destro deposita il pallone in rete, 1-0. La ripresa parte ancora con il Real in avanti e al primo affondo raddoppia. Petroccia serve Cardella al limite dell'area, l'esterno salta il difensore con una finta, prova di destro, leggera deviazione del difensore, de gol, 2-0. Il Real Pomezia non si accontenta, Remunen dà la sua area, lancia lungo il pallone, arriva Roversi che di testa prova il pallonetto sull'uscita del portiere che respinge di mano fuori dall'area. Ma per l'arbitro è tutto regolare. Clamorosa svista della terna arbitrale che non concede il fallo e non espelle il portiere che prende chiaramente il pallone con le mani fuori dall'area di rigore. Ancora Remunen in veste di Astisman, lancia in profondità Aglitti, il numero 10 davanti a Baroncini lo centra in pieno divorandosi il terzo gol. Il cornetto Tarquinia è pericoloso al 65esimo, su calcio d'angolo, arcolace, di testa, manda alto. Ancora Tarquinia che sembra essersi svegliato forse troppo tardi. Punizione di Tamaglio in area ma nessuno riesce ad intervenire. All'ottantesimo Santo sulla destra crossa per Gagliardini che di testa pesca l'angolino alla sinistra di Remunen. 2-1. Due minuti più tardi Punzi viene allontanato dall'arbitro per essere uscito dall'area tecnica. L'ultimo brivido per i pometini in pieno recupero è con Tamaglio che da fuori area spara alto. E finisce qui, vittoria meritata ma con un finale sofferto per il Real Pomezia che batte 2-1 il cornetto Tarquinia e ottiene la seconda vittoria consecutiva. L'ultima mezz'ora siamo andati in calo, loro ne hanno approfittato, poi hanno fatto golle e ci hanno chiuso dentro per demerito nostro. Di ripartire proprio da quell'ultima mezz'ora dove noi abbiamo messo sotto una grande squadra dimostrazione che i ragazzi hanno dato il massimo e questo per me è un motivo di pregio.